Oggi è una gara di cucina e rientra nel parco dell'ossidio di vita dei Terranei di cui Trautari è il primo sottoscrittore. Questo patto è stato sottoscritto tre anni fa dalla Presidente Marcella Miglia con l'assessore Nicoletti, il Comune di Caltanissetta e oggi è la giornata in cui il patto ha la sua massima espressione perché si trova a Torino alla manifestazione di Slow Food Terra Madre con in cui ci collegheremo più tardi e faremo una diretta con l'assessore Nicoletti proprio perché questa giornata rientra perfettamente in questo patto. E' così che il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta commentava all'inizio della manifestazione di domenica 25 settembre mentre infatti il Comune era presente a Torino alla 14esima edizione di Terra Madre per la presentazione del primo parco dell'ossidio di vita mediterraneo i Rotarini Sene e quello San Cataldese si sono sfidati a Caltanissetta a suon di ricette mediterranee e prodotti del territorio e di tutta l'isola. E' stata esaltata infatti la sicilianità anche attraverso i costumi tipici indossati da alcuni dei presenti. Sono qui con il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Fabio Tornatore, che ringrazio vivamente per l'invito che ci ha fatto per partecipare a questo Interclub. L'Interclub che ha come tema principale è la sicilianità, quindi tutti i prodotti tipici ovviamente cucinati siciliani da noi. Il piatto che si è giudicato il primo dei tre premi per i primi classificati è stato proprio quello di Marcella Milia con la sua parmigiana di pesce spada.